Giorno a tutti ragazzi, vi sono il CRECO52 e oggi siamo tornati sul simulatore di ladro Allora abbiamo sbloccato il nuovo quartiere Quei qua sono ricchi e c'hanno i sacchi Quindi sarà un casino assurdo Non sappiamo un tubo di nulla degli inquilini Quindi dovremo andare a tatto Quindi a tentativi Quindi bestemmie tantissime probabilmente Guarda c'è anche il parcheggio qua Allora Dobbiamo guardare che 99 su 100 ci stanno delle tele... appunto Vai non ti abbassare imbecille Una Vediamo perché non mi fido per niente Ok Una... Ah eccola là in fondo No non è vero Che cazzo di... Eccola qui Due Non ci possono essere solo due telecamere comunque Non ci credo Non è possibile Questa guarda fuori Ok Sono solo due telecamere Su serio? Però non so Non so se c'è la gente dentro casa Buongiorno intanto Lei eh Io mi sto facendo un giro C'è troppa gente in questo quartiere Via Se... Oh Guarda qua Uno, due, tre, sette persone Dai Che vede? Questa mi vede adesso Ok Devo andare Lì Dove? Qual è? Cazzo Eeeh Niente 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 L'ho sbagliato Rifare La porca troia Gira Portacci tu a gira Apri 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 Le telecamere fuori Non mi interessa Fai solo questa cosa qui E basta Ah Che co-chi-chi Merda Beh ma se Se va Cazzo E' stato chiuso la chiave Potrebbe essere un problema Questo Dimmi che Dimmi che me l'hai dato Se no Che ora è? Che ora è? Sono le 4 Ma allora torno Se non c'è la data Torno qui alle 2 La rifaccio Perché non mi sembra Eeeh Vediamo un po' se c'è la data Comunque Dalle 2 alle 4 Non c'è nessuno Mi sa che non c'è la data Ah non c'è la data Bene bene Oh Per il prossimo lavoro Andiamo a scuola Per me Ok Però adesso devo dormire di nuovo Ok non c'è nessuno dentro casa Ma fuori qua ci sono 270 persone Non è vero Non è vero Non è vero Non dire cagate Ti pare che stiamo facendo qualcosa di illegale? Eh Ti pare? Ti beggo eh Ah Ah Ok Via Andiamo sempre da questa qui Oh C'è un poster d'epoca In camera da letto Ma corri Tanto non c'è nessuno Ah Ah Premo questa Ok Apri Accendi nient'altro Qua no Ruba Questo Ruba Non c'è più Non c'è più spazio Spacca questo Adesso via di qui Ok Chiudi la finestra Che siamo brave persone Dimmi che non devo Ok Non devo riaprire Via Perfetto E' stato muy bene Anche Se non mi va A 40 frame Magari è meglio Via Alla macchia Un attimo Un attimo Che non vado Adosso ai pali Via Libertà Perfetto Eh Questo è un ladro Ok Vediamo se ci sono Abilità Elettronica Ale Disabilita l'alarma Da testa Oh madonna Ti vendo l'iMac Ti vendo questo Compriamo la roba Il terminale A casa Vendiamo i quadri Infatti Questo non vuole I quadri 2000 Non so Ti puzza Vediamo se c'è Qualcos'altro Qua Qui No Ci niente Di bello Allora Disabilita l'alarma Da testa A casa Quale diavolo Eh Questo qui Sì Così Cazzo Allora Questo Ah no Il giallo E rosso Come no Come allora Questo Questo E rosso E questo verde Cazzo Era l'altro Allora Verde Questo Quello Questo viola E questo verde Ti ho bisogno di Una camera Compri una Ma perché Vabbè Ma che cosa Compra la camera Ok PDA da cazzo Questa non so PDA da cazzo Vabbè Compriamo una microcamera Non so cosa mi dica Dica C'è scritto 204 Ma c'è scritto 206 Io Chi devo credere Dobbiamo guardare Dove ci sono Allora Qua Dove sono le telecamere Una è lì E marcalà Non la marca Eccolo lì Dopo Una sta Qua E l'altra Boh Non so Cazzo Stanno le altre Ah buongiorno Marcamela Marcamela Bruto idiota Non l'ha marcata Non l'ha marcata È scemo E questo Ok abbiamo scoperto Più o meno La routine Apri apri Che tanto qua Non ci vede nessuno Ok Andiamo di qua Corri 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 uomo Corri Ok Però questi hanno L'elevatore Taglio vetro Brutto No Qui devo Qui devo Creare Il terminal Creare la porta Oh Gesù Si può Creare qua La porta Non ho il PDA Come cazzo Faccio ad entrare Orca puttana Adesso Mi sa che mi dovevo Comprare il PDA Da hacker Sono C'è un'altra porta C'è niente Quanto mi sgamano Da 1 a 10 Se faccio così Aspettate un attimo Ok mi sgamano tanto Mi sgamano tanto Scherzo 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 Non è che permalosi Che permalosi Tutti Non ho il PDA Da hacker Come faccio io Adesso Come faccio Eh Si va a casa Comprarlo Ecco come si fa Quanto costa il PDA Quanto costa Oh Gesù Rompiamo un nano Da giardino De 201 Che cazzo Non so Io non so Dove sta Tacci vostra Quattordicimila Dio Dio Quanti soldi Ho 10 Allora Rubiamo di nuovo 204 Io non so Perché io il PDA Lo voglio comprare Prima di andare Prima di finire il video Voglio comprare il PDA Che cazzo No perché adesso è diventata Una questione di principio Voglio comprare il PDA E metterglielo Sotto rubo tutto a questi Tutto 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 gli rubo Tutto Posso rubare la batteria No Non posso Che cavolo Rubo tutto Che chitarra Togli la chitarra Che cavolo Non so io Prendi questo Così arriviamo a casa Lo sblocchiamo Soldi L'ho vista L'ho vista Qua non c'è un tubo Qua non c'è un tubo Di nulla Niente 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 No non c'è niente qua Ah Gli svuoto la casa a questi Ma io non so C'è qualcos'altro Da rubare qui La tastiera No voglio la tastiera Io non mi interessa Butta questo Vendi la tastiera Che vale molto di più Boh vaffanculo Adesso andiamo a vendere Tutto 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 No io me ne No Guarda Guarda Compra Compra Adesso andiamo Andiamo Subirete la mia ira E dai Questo così Poi così 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 Perfetto Fatto Ma Guarda Guarda ivenesse Un o l'unico qualità qualità Ehi, è il momento di ottenere la nostra canna. Vai a ottenerla e portarla. È solo la cosa che abbiamo bisogno per cercare. Non ci credo! No, 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 no! Che palle! Si tolga! E attraversi sulle strisce, è screanzato. Guarda qua, perfettamente mimetizzato nelle felici. Adesso aspettiamo 30 secondi che questo vada fuori dai piedi. Faccio esercizio intanto io. Nel punto non voleva che fare gli esercizi! Guarda che... 6... 7... 8... Dai! Fuori dai! Va fuori dalle palle! Fuori! Dai! Da dove va fuori? Dio santo! Dai, animo! Non posso stordirlo e rubargli le chiavi? Mai non so. Ma da dove? Perché va fuori dal garage? È sparito nel nulla. Un mago. Eeeh! Eeeh! Dai, acchera di no sta cosa! Stia ferma lì eh! Stia ferma! Non si muova! Anzi, sapete che io dico? Bravi, brava. Cincischi, cincischi. Ehi, ok. Non mi alzo neanche. Guarda, ruba di nuovo questo. E tanto mai. La 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 la. Non mi ha visto nessuno! Basta! Basta! Non mi ha visto nessuno! Non avete niente a che fare voi. Io ne metto una camera a Black Bay. Va bene. Elettronica. Si! Dai! Sentiamo. Se vuoi una buona camera, hai bisogno di disabilire l'alarmamento. Giusto! Va bene. Basta, raga. Dopo aver fatto queste peripezie incredibili, dobbiamo imparare questo. Però c'erano due punti abilità. Vaffanculo. Però abbiamo cosa da fare. Abbiamo cosa da fare qui. Abbiamo un lavoro... Non più. No! Eh sì, ciao. Oddio, forse questo possiamo farlo. Possiamo fare anche... Questo in realtà. Sì, dai. Io direi grazie che per questo appuntamento di... L'Atom Simulator abbiamo concluso. Abbiamo spiato... Un sacco ai ricchi. Se il video vi è piaciuto mettete un piaccio. Commentate, iscrivetevi. E noi ce li diamo in un prossimo video!